Musica A tutti voi buonasera dal TG Max. Si era specializzata in furti di rame dalle linee elettriche dell'alta tensione dell'Enel nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia e Puglia. La banda di romeni è sgominata dai carabinieri della Compagnia di Popoli. 17 le misure cautelari emesse. Interrompevano il flusso di energia, tranciavano i cavi di rame e velocemente li caricavano nei furgoni per poi rivendere la merce a ricettatori compiacenti. Era questo il modus operandi di una banda di romeni sgominata dai carabinieri della Compagnia di Popoli. 17 le misure cautelari emesse, 6 le persone finite in carcere. Molti degli indagati sono senza fissa dimora occasionalmente alloggiati nell'Interlande di Bologna, a Pescara, Dortona e Lesina, già noti alle forze dell'ordine. Secondo gli investigatori, la banda si muoveva lungo la dorsale adriatica tra le province di Foggia, Chieti, Pescara, Bologna e Pavia. Le indagini sono durate tre mesi. Si hanno preso il via dopo il furto di alcune centinaia di metri di cavi a Enel ad alta tensione tra Bolognano e Scafa, avvenuto la notte del 17 gennaio. Fondamentali le testimonianze dei cittadini della zona, che hanno parlato di un furgone e due auto con targa straniera, identificate dopo qualche tempo e sottoposte a una costante attività di monitoraggio fino a quando il 24 gennaio hanno forzato un posto di blocco a Scafa e i sette occupanti sono fuggiti lasciando i mezzi. Dentro c'era una tonnellata e mezzo di cavi ad alto voltaggio rubati nella zona rimasta al buio. Il comandante Antonio Di Cristofaro. Abbiamo chiuso il cerchio intorno ad una organizzazione che era dedita appunto a depredare le linee telefoniche dell'Enel. Siamo arrivati alla conclusione della indagine nel giro di tre mesi. Tutto è iniziato a seguito di un furto che c'è stato nel territorio tra Bolognano e Scafa lo scorso mese di gennaio e subito ci siamo indirizzati per cercare di capire che cosa stesse accadendo. Attraverso alcune testimonianze di residenti del posto abbiamo identificato i veicoli, furgoni e macchine con targa straniera che utilizzavano questi soggetti. Di conseguenza da lì siamo partiti e man mano anche con successivi indagini tecniche con intercettazioni telefoniche e sistemi GPS abbiamo identificato via via ad uno tutti i membri dell'organizzazione. Nella giornata di ieri abbiamo portato a termine questa vasta operazione di polizia che ci ha visto interessati ed impegnati nelle province di Foggia, di Chiedi e anche di Bologna. Cioè territori nei quali questa banda, questa organizzazione si muoveva per saccheggiare letteralmente i cavi di alta tensione delle linee dell'Enel. Merce contraffatta e positiva ai metalli pesanti, maxi sequestro di prodotti e giocattoli cinesi all'ipercina di L'Aquila. Sequestrata merce contraffatta proveniente dalla Cina è destinata alla vendita al dettaglio nel mercato aquilano. Ad intervenire il personale della divisione amministrativa, della divisione anticrimine e della squadra mobile coadiuvato da quello dell'ufficio antifrode delle Dogane. Il sequestro all'interno del locale commerciale Ipercina di circa 1200 prodotti è avvenuto perché a seguito dei controlli effettuati su materiali di varie tipologie è stata riscontrata la presenza di merce contraffatta non conforme alla normativa sulla sicurezza risultata con marchio ingannevole. Il materiale in questione è risultato anche positivo ai controlli sui metalli pesanti nella loro composizione basica. Infatti i materiali contenevano elevatissime quantità di una sostanza molto nociva il cromo esavalente utilizzato per fissare i colori. Denunciati due proprietari di etnia cinese. Compatibilmente con le tante altre attività lavorative che ha la Questura abbiamo iniziato una collaborazione con le Dogane che non finirà qui e porterà sicuramente altri controlli perché il problema non tanto della contraffazione che c'è ma il problema più grave è quello dei materiali, merci che sono nocivi alla salute va sicuramente contrastato e non è solo un problema legato ad aziende cinesi ma è un problema di immissione proprio di materiale nel mercato per cui sicuramente dato che ci sono normative che vengono violate sia da un punto di vista doganale sia da un punto di vista penale, il codice penale, allora è doveroso poter capire all'Aquila e provincia se c'è una diffusione di merce che fa male e che è nociva alla salute delle persone. Praticamente la presenza di metalli pesanti abbiamo riscontrato la presenza di cromo esavalente in quantità ingente, nociva alla salute e questo è particolarmente a cuore abbiamo la salute dei cittadini soprattutto qui della nostra città per questo scopo abbiamo concluso positivamente questa operazione ma non è soltanto la presenza di cromo esavalente che pure è molto grave ma c'è la presenza di violazioni per la tutela della proprietà intellettuale quindi la contraffazione e c'è la presenza della violazione dell'accordo di Madrid per il made in perché molte merci sono dichiarate made in Italy ma in realtà sono made in Cina. Ancora a cronaca, tornano a rubare nella stessa villa ma stavolta i carabinieri di Atessa li stavano aspettando in manette due rumeni, un terzo è ricercato. Credevano di farla franca per la seconda volta in un mese ma i carabinieri di Atessa li stavano aspettando e li hanno arrestati mentre cercavano di scappare dalla villa che avevano preso di mira due rumeni ritenuti pericolosi malviventi dagli uomini dell'arma perché con precedenti penali per furti induzione e sfruttamento della prostituzione e sequestro di persona sono stati arrestati mentre cercavano di rubare all'interno di un'abitazione a piano alla Fara con trada di Atessa a ridosso della fondo Valle Sangro. In manette sono finiti Barbu, Ioan, Andrei, 26 anni e Sandro, Gabriel, Ioan, 28 anni entrambi noti alle forze dell'ordine di tutta Italia che sono detenuti nel carcere di Lanciano. Con loro c'era anche un terzo uomo che però è riuscito a dileguarsi gettandosi da una finestra del primo piano probabilmente è ferito dicono i carabinieri che sono sulle sue tracce e lo stanno cercando in tutta la provincia. La villa era stata svaliggiata dalla banda già all'inizio di aprile quando i malviventi avevano portato via un ingente quantitativo di monili in oro tralasciando però argenteria di valore. fatto questo che lasciava presuppore la loro intenzione a tornare sul posto per completare il colpo. Per questo motivo in accordo con il proprietario di casa gli uomini dell'arma avevano installato un sistema di allarme collegato con la centrale operativa della compagnia di Atessa che ieri sera è puntualmente scattato dando il via all'intervento dei carabinieri. All'arrivo dei militari i tre rumeni che avevano lasciato l'auto a una Opel Corsa in una strada secondaria della zona si trovavano nella camera da letto al primo piano della villa e stavano facendo razzia di orologi e altri oggetti di valore. L'arrivo dei carabinieri non li ha affatto intimoriti. Invece di fuggire infatti hanno ingaggiato una violenta colluttazione ma ad avere la peggio sono stati due arrestati mentre il terzo si è lanciato dalla finestra rischiando la vita ma riuscendo a fuggire. I carabinieri proseguono le indagini anche per cercare di capire se la banda è responsabile di altri furti avvenuti nel comprensorio con le stesse modalità nei mesi scorsi. Emergenza gas a Teramo dove da ieri sera oltre 21.000 utenze sono state disalimentate. Tra le ipotesi la più accreditata è quella di un'improvvisa caduta di pressione che ha interessato il metanodotto dell'ASG. Gravi le ripercussioni in città. Molti forni questa mattina non hanno aperto e forti disagi vengono denunciati da ristoratori e baristi. Il disservizio potrebbe prolungarsi per almeno quattro giorni per mettere in sicurezza la rete. Il prefetto Walter Crudo ha assicurato che viene comunque garantita l'alimentazione dei punti sensibili come l'ospedale servito da cosiddetti carri bombolieri e con gasolio e le due case di cura per anziani. Intanto Comune, Protezione Civile e Croce di Teramo hanno allestito una cucina da campo in Largo Madonna delle Grazie per fornire pasti caldi a chi ne avrà la necessità. Turismo sono 16 milioni di euro previsti nel nuovo bando della Fira alla Finanziera Regionale per promuovere il turismo di qualità. La Regione Abruzzo punta ancora sul turismo e rifinanzia la legge regionale 77 del 2000 che prevede interventi di sostegno alle imprese operanti nel settore del turismo. Il bando mira a migliorare la qualità delle strutture ricettive, stabilimenti balneari ma anche parchi divertimento. Le risorse finanziarie stanziate prevedono un fondo di oltre 16 milioni di euro provenienti da risorse regionali e in massima parte da economie derivanti dalle annualità pregresse giacenti presso la Fira. Il presidente Rocco Micucci. Si tratta di un bando appena approvato dalla Giunda Regionale con una dotazione finanziaria importante di oltre 16 milioni di euro che sarà a disposizione dei nostri operatori turistici per riqualificare, migliorare, certificare le loro strutture ricettive. La cosa che mi preme anche sottolineare è che è stata allargata la platea degli operatori che possono inserirsi con questo bando perché sono previsti anche i parchi divertimento cosa che in Abruzzo stanno prendendo piede e sono veramente importanti. È una grande opportunità, ha dichiarato l'assessore regionale del turismo Mauro Di Dalmazio un intervento in grado di dare un sostegno fondamentale alle strutture ricettive balneari che consentirà il miglioramento di quelle esistenti e la creazione di una nuova ricettività di qualità. L'altra novità, direi, epocale rispetto alla tradizione di questo bando è che abbiamo eliminato finalmente con un provvedimento normativo la procedura a sorteggio che era una procedura oggettivamente inaccettabile che però era sancita normativamente, abbiamo cambiato la legge quindi sarà una procedura graduatoria che terrà conto di alcuni requisiti e parametri anch'essi indicati nel bando. Ripeto, è un'azione che arriva dopo una lunga attività di recupero ma è un'azione che rappresenta sia una boccata d'ossigeno ma sia una grande iniezione di sostegno per il miglioramento della qualità dell'accoglienza e della nostra capacità ricettiva. Anche il Comune di Lanciano ha promosso misure di sostegno economico per nuove attività imprenditoriali con l'obiettivo di rivitalizzare il centro storico. Misure di sostegno economico per nuove attività imprenditoriali, commerciali e artigianali nel cuore della città. Il Comune di Lanciano pubblica il bando da 150 mila euro con l'obiettivo di rivitalizzare il centro storico. Il contributo, spiega il Vice Sindaco Pino Valente, assessore alle attività produttive, è del 30% delle spese sostenute e documentate, comunque non superiore all'importo di 15 mila euro per ciascuna impresa. A beneficiare del finanziamento potranno essere le nuove attività ricadenti nei due quartieri storici di Lanciano Vecchia e Borgo. Il contributo potrà essere erogato in caso di nuove aperture di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali e commerciali, attività artigianali nel settore alimentare e per la vendita di prodotti tipici e della tradizione locale. Sono ammesse al contributo anche le attività risultanti da trasferimenti di sede dell'esercizio da altre zone del territorio comunale. Il 30% a fondo perduto lo darà il Comune di Lanciano con un tetto di 15 mila euro. Il ringraziamento va ai partner dell'iniziativa Camera di Commercio e BIPER che hanno contribuito in parti uguali insieme al Comune di Lanciano a questa importante iniziativa che ha una duplice finalità, quindi rivalutare e rivitalizzare il centro storico e dare una mano a quelle persone che vogliono intraprendere una nuova attività economica. È la dimostrazione che si possono portare avanti iniziative di questo tipo anche in tempi di crisi. L'importante è fare sinergia, l'importante è avere progetti validi e con i progetti validi si riesce a fare squadra con altri partner, con i partner istituzionali così importanti. Il nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Teramo ha eseguito un'ordinanza di sequestro preventivo per quasi 18 milioni di euro nei confronti di sei aziende terramane operanti nel settore della produzione olearia. La misura coercitiva ha riguardato il sequestro di 59 beni immobili finalizzato alla successiva confisca per equivalente, quale profitto di una pluralità di reati, indebita percezione di finanziamenti pubblici nazionali e comunitari destinati alle attività produttive, truffa aggravata, truffa in danno dello Stato, concorso morale e materiale in falso ideologico in atto pubblico e associazione di tipo mafioso. Il sequestro patrimoniale dei beni è conseguente ad un'indagine avviata dalla Guardia di Finanza di Catanzaro con successivo trasferimento del fascicolo processuale al Tribunale di Teramo per competenza territoriale in quanto tutte e sei le aziende destinatari del provvedimento giudiziario hanno sede in provincia. Le investigazioni hanno svelato una pluralità di condotte illegali finalizzate ad ottenere in debiti vantaggi personali da parte degli amministratori o delle aziende da loro gestite con l'aggravante del danno di particolare gravità per lo Stato e del rilevante profitto illecito conseguito. Ed ora la pagina sportiva, la Serie B ieri di nuovo tutta in campo, la Virtus ritrova fame e determinazione battendo l'Empoli di Sarri, i rossoni ritornano in zona playoff. La salvezza è ormai aritmetica, il record di punti in Serie B ben 51, ormai in realtà la zona playoff è riconquistata in una notte magica in cui succede di tutto in una girandola di emozioni che tocca tutti gli stati d'animo dalla paura al gol iniziale dell'Empoli con la difesa stranamente immobile all'orgoglio di una squadra che ha ritrovato fame, cattiveria, determinazione e unità del gruppo fino alla rimonta che strappa applausi. Falcinelli pareggia i conti sul servizio di Motorino Di Cecco, la mattonella di Mammarella in pieno recupero fa esplodere il biondi di gioia, sinistro venenoso e corsa sotto la curva sud. Il capitano. Sono contento del gol che ha permesso comunque alla squadra di prendere tre punti preziosi, ma oggi c'è da premiare la squadra, ma tutti, da chi è andato in tribuna, dallo staff sanitario, dallo staff tecnico, dai giocatori che erano in panchina, da quelli che erano in campo, perché c'era un atteggiamento giusto, un atteggiamento battagliero che è quello che ci ha contraddistinto fino adesso e che forse avevamo un po' lasciato per strada. Dopo quattro stop di fila, Mister Baroni cercava di ritrovare il suo lanciano, fatto di orgoglio, corsa e grinta, la squadra non lo ha deluso. Bene in difesa, dove ha giganteggiato a menta, Tavano è stato letteralmente annullato, Maccarone è limitato nell'iniziativa, generosa la linea di centrocampo con Di Cecco e Paghera, in perenne movimento e Germano, che ha percorso chilometri in fase di contenimento, ma soprattutto all'offensiva. In avanti è tornato piccolo dei giorni migliori, con Facinelli che prima ci va vicino, poi trova il gol della liberazione. Abbiamo superato un momento difficile, credo che comunque in 42 giornate ci sta, tutte le squadre ce l'hanno avuto, e adesso ci godiamo questi tre punti e poi ci prepariamo per questo finale. E adesso quattro giorni di riposo e pagine rossonere alla ripresa, ancora tutte da scrivere. Si ripartirà dalla trasferta di Varese contro una squadra ferita che si guarda ora alle spalle. Superata quota 50, archiviata col conforto dei numeri, la pratica a salvezza, si punterà a dare il massimo, riprendendo un sogno accantonato in fin dei conti solo per una settimana. Mister Barone. Una squadra come la nostra, che non voglio dimenticare, è stata costruita per fare un punto più dello scorso anno, cioè 49 punti. Siamo alla quattordicesima vittoria, se non mi sbaglio, 51 punti. Io credo che questi ragazzi, come ho già detto, vanno solo applauditi. Solo questo. E questa sera telecronaca integrale su Telemax di Virtus Lanciano Empoli alle ore 23.30, replica domani alle ore 13.30. Continua invece la crisi del Pescara, battuto anche a Terni di misura. Adesso sono 5 punti di ritardo dei Biancazzurri dalla zona playoff. Al posto di colmare il gap dalla zona playoff, il Pescara allunga le distanze, sprofondando nella notte del Liberati tra le proteste su alcune decisioni arbitrali, ma anche nella consapevolezza che la squadra non gira e continua a singhiozzare. Eppure il primo tempo è stato disputato all'altezza della situazione, eppure si è preso il gol partita. 5 punti di ritardo dalle zone nobili, Ternana che capitalizza il gol di Maiello del primo tempo, con i Biancazzurri che poi fanno pochissimo per rimettere in piedi la partita. Espulso Cosmi per proteste, il rammarico è per un fallo di mano di Rispoli non segnalato, ciò non toglie i limiti, Biancazzurri, tutti nella ripresa. Il mister. Adesso io mi auguro che essere usciti anche da un discorso di playoff, perché noi siamo stati nel limbo per diverse partite, dove una partita vinta avrebbe significato ritornare lì. Non ci siamo riusciti, e devo essere sincero, più per colpe nostre. Adesso spero che questa situazione non determini rilassatezza, ma ci tolga quella pressione di vincere per forza, di andare magari in campo a giocare come ha giocato per 40 minuti, perché credo che qui la gente, non solo noi, fino al gol della Ternana abbia visto un buon pescare almeno da fuori. non è che dava la sensazione di una squadra demotivata, che non avesse dei concetti di gioco. Umbri che non vincevano in casa da quasi due mesi, e il Pescara in un percorso tortuoso, in difficoltà nelle ultime partite, dopo l'avvio sprint della prima Era Cosmi. Dopo la Pasqua, sarà il Pescara a dover dare una risposta precisa al suo reale valore, con prestazioni convincenti e soprattutto la sola vittoria contro il Novara in ripresa. Si giocherà venerdì in anticipo alle ore 15. Dal calcio ai motori, questa sera eccezionalmente di venerdì, un nuovo appuntamento con Griglia di partenza. È tutto, vi ricordo che servizi, approfondimenti e programmi sono disponibili sul sito tgmax.it. Grazie per essere rimasti con noi e arrivederci a domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.